Ciao a tutti da Tyco da gruppo critico negativo Siamo tornati nella serie su Back to the Future The Game Oh si, oh si, oh si Bene, non ci vediamo da un po' di tempo Ne approfitto in questo video per ringraziare tutti coloro che si sono iscritti al canale Abbiamo superato i 40, siamo a 43 tipo adesso che registro E niente, volevo ringraziarvi, abbiamo superato anche le 2000 views Tutti i video caricati sul canale, siamo circa una settantina di video Davvero un bel traguardo per il canale e per il gruppo E quindi volevo ringraziare, volevo ringraziare davvero tutti coloro che ci stanno guardando Tutti coloro che ci stanno seguendo E' davvero fantastico e spero di riuscire, come già detto in passato A superare, a meno a raggiungere i 50 iscritti per l'anno nuovo Ok, adesso torniamo al gioco E nell'ultimo esipodio Dovevamo conquistare la fiducia di costui Dunque, dunque, dunque Se non sbaglio dovevo fare questa cosa qui E voilà Registriamo la voce del doc, del giovane doc Cosa stai facendo? Ciao Beh ciao Scusa Ok Se ricordo bene bisogna trash Fammi correre Come funziona? Non mi ricordo più i tasti Vabbè andiamo dal doc Camminando camminando Doc 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 Eh Eh mavi Eh Hai avuto a che fare col mio Col mio giovane me Ok I recorded your mattering Tipo Ho registrato i tuoi vaneggiamenti Ecco So Doc Is this ring a bell? Ring a bell? Come una campana Si si bla 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 Ciao 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 Grande giove Ah si si Perché non è in italiano questo gioco? Ti odio Ah si è facile Ma non posso scherpare No Questo posso pausarlo Ah si No così metto in pausa Ah 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 Non posso scappare Schippare Scappare Scuppare Dai Vabbè qua sta parlando di qualche teoria strana Sul bidimensionale E non so che altro Pa 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 What are you doing in jail? I saw my grandpa Vabbè Vabbè Si 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 Ah si 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 Non ci interessa In realtà Si Vabbè esattamente Tutto quello che dici tu Doc Troppe chiacchiere Doc Non so se alla fine del gioco Ci avrò capito veramente qualcosa Ammesso che lo finisco questo gioco Sono noto Per non finire i miei giochi Where you have been What's the formula again? Vabbè I saw my grandpa Eh ce la dobbiamo Ce la dobbiamo sorbire questo pezzo No Ho visto mio padre E mio nonno No Non lo avevi Vabbè Non ho fatto niente Non ti preoccupare Doc Doc La bla bla Doc Va bene Doc Ciao Doc Grandmà Grandpà Grandsord Silvia Vabbè 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 Ok Vorrei uscire Ah exit Ok ciao Oh mio dio Che nabbo Eh ok Ho ritrovato anche come si corre Tasto destro sempre Il tasto destro È possente in me Doc Dove sei Doc? Sarà qui? No Dov'è il Doc? Eccolo Andiamo dal Doc Facciamogli Un appustamento Olè Dai Fammi parlare Doc Parla Mi sono un tuo amico Big no Friend Vabbè Non un grande amico Il mouse Eccolo Eccolo Amico Amico Operator I've got something important for you To do Finish Ok Vediamo questa Ok Gli abbiamo detto la formula segreta Yeah Grande Scott Era grande Joe Suonava molto meglio Vabbè Qua vanneggiamenti da scienziato Ha 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 Vabbè Ora mi aiuti I'm from the planet I'm from the future I read Lotto Giulio Verne Ho letto un sacco di Giulio Verne Meglio non di Della macchina del tempo Ok Cosa? Sono al tuo servizio Benissimo Almeno questo l'ho capito ragazzi Penso l'ho capito I need your rocket drill I need your rocket drill I need I really really need your rocket drill Ok Mi piace Ho davvero bisogno del tuo rocket drill Ma cosa è un rocket drill? Qualcuno me lo dica Di te bello I need your rocket drill I need your rocket drill I need it tonight Ho bisogno di quella cosa Fu completamente funzionante Starotte Oh mio dio Dice non è possibile Cosa dice? Ah ci vuole dell'alcol Va bene Stiamo per metterci nei guai credo Orton you see that rocket power drill today? Yes Vabbè dice che tanto è importante Ah vabbè Ok Arthur Mcfly Oh cribbio Aspettate che Cercano di capirci Qualcosina Arthur Va bene Va bene Vabbè tante chiacchiere Sostanzialmente In pratica Dobbiamo recuperare Per far funzionare questa cosa Dobbiamo recuperare dell'alcol Per recuperare questo alcol Dobbiamo rivolgerci Al nonnino Mcfly Nonno Mcfly Mcfly Eh bellissimo Questa grafica Va bene Quindi dobbiamo rivolgerci Ai gangstar Vorrei andare No Di là Corri 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 E voilà Facciamo questo Poi magari rimandiamo Al prossimo episodio Ah vieni a pulire gli stivali Ah ok Fa una brutta morte Se no mi pulisci bene gli stivali To shine your shoes My mistake I'll just be moving along Vabbè Sì Sono qui per pulirti Le scarpe Cosa facciamo Mettiamo un argomento così a casa È un suo impiegato È molto impegnato oggi Va bene Do you know when I might find him? Do you know when I might find him? Do you know where he is Right? Sei dov'è? È l'ufficio L'ho dimenticato Eh ma è un bastardo Uh When I might find him It's that art Vabbè proviamo questa Pa 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 Believing Eh si è dimenticato un pezzo Ah Proviamo questa Non è Chi artis hat Non so Ah era il cappello di McFly Ah 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 ok Can I have some of those peanuts? Never mind Never mind Beh Hmm Ah vabbè Dice ma tu non stai buono con la testa Che ne stavamo due spignazze Can I have some peanuts? Hmm Perché no? Sono magnanimous kind of guy Sono magnanimous Ah Vabbè lo faccio stare un po' così In questa posizione è molto comoda Don't mind if I do Don't mind if I do All right Break time's over Back to work Hmm Torno al lavoro Va bene Ehm Ma non ci interessano i fatti tu in realtà Voglio andare avanti con la tra About artis About death So one more Can I buy that hat? Diamo visto Never mind Can I have some of those peanuts? Ehm Proviamo di nuovo Lo faccio rimettere nella posizione assurda Ok Perché lui è magnanimous Oh I'm not hungry What the hell is that? Oh cavolo Questo è un problema Fuggi sciocco Oh oh BAM Meno uno Dove è fuggito me? McFly Give me that hat you lousy crook Dammit Oh 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 Ehm Addirittura Addirittura Eh Avete visto come era atletico il doc Da giovane? Spariti Ci siamo fatti Un discreto nemico E ha pestato anche una cacca Dei io Beh direi che con Con l'immagine di costrui che va nella cacca Rimanderei al prossimo video Vabbè aspettiamo un attimo per vedere cosa è successo Aha Aha Siamo belli rinascosti Ti muovi bene Il doc giocava a football Oh mio dio Dove se l'è messo il cappello Va bene Con la sparizione magica del cappello del nonno di McFly Nonno McFly Io Vi do il saluto Vi saluto Sì vi saluto Quindi ciao a tutti da Tyco E dal gruppo critico negativo A che da matti McFly Che andato in pausa Ciao 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 Ciao